Buongiorno Granellini e felice domenica. Buongiorno Granellini. Oggi non siamo in giro per qualche reportage, né per le spiagge, né per i posti dove mangiare meglio a Fuerteventura, però trattiamo comunque il tema del food. E esattamente questa settimana abbiamo gironzolato parecchio per alcuni bar dell'isola. Abbiamo fatto alcune considerazioni. Noi di solito vi facciamo vedere tantissimo il centro, i paesini dell'entroterra, della costa, ci concentriamo al sud, ma in realtà parliamo veramente poco della zona dove comunque si mangia meglio nell'isola, soprattutto per quanto riguarda i bar. Del resto se un italiano vuole fare una ricchissima colazione italiana o se uno straniero che non sia né italiano né spagnolo vuole provare qualche cosa che sia veramente estremamente colosa, è inutile fare tanti giri, deve andare a Corraleco. In questi mesi abbiamo provato tanti bar, tante merende, in questi mesi abbiamo incontrato diverse attività inerenti al food, tantissimi barretti, ma oggi nello specifico vi parliamo di due bar per due motivi diversi. Due motivi diversi, sì. Allora, sono comunque due bar che si trovano entrambi a Corraleco. Li abbiamo scelti perché hanno due particolarità. Il primo, Magnana Es Meor, è un bar dove troverete tutti i prodotti esclusivamente italiani. Il secondo, Buena Vista Caffè, si trova sempre a Corraleco ed è un bar dedicato quasi esclusivamente a chi è vegetariano e vegano. Amici vegani e vegetariani, vedete che vi pensiamo? Allora, c'è da dire che a Corraleco si trovano dei bar con delle squisitezze incredibili. Siciliani, pugliesi, napoletani, le brioche, quelle che magari ti mancano dell'Italia, il cappuccino fatto bene, dei buonissimi caffè, delle golosità perché adesso negli ultimi anni e stranamente proprio con lockdown si sono tutti specializzati col food. Quindi, insomma, quando si viene a Corraleco e vuoi fare un pranzo svelto, colazione o merenda che sia, hai solo da leccarti le dita. È veramente difficile trovare un bar dove si mangia male. Te lo devi cercare con l'anternino. Quindi è stato veramente difficile stabilire quale bar potesse intanto rappresentare qualcosa di speciale, ma poi in futuro ne parleremo di altro. Per quanto riguarda invece il discorso della scelta del bar vegetariano vegano, anche lì abbiamo scoperto, attivando le antenne della ricerca, il target della ricerca, che Corraleco in particolare è pieno di bar vegetariani vegani, con delle squisitezze. Sì, diciamo che per il momento vi presentiamo appunto il Buonavista Caffè, però chissà se voi siete interessati che non possiamo andare a fare qualche giro anche in altri bar vegani o vegetariani della zona. E quindi specializzare la cosa facendo dei video dedicati e delle interviste. Ma adesso granellini, io e Grazia diventiamo piccole. Vedete? Adesso ci mettiamo in un piccolo quadratino per lasciare i riflettori a quello che veramente merita, cioè queste attività. Di cosa parliamo prima, Grazia? Beh, parliamo prima in ordine cronologico del Buonavista Caffè. Perché? Perché ci siamo state qualche giorno prima. Sì. Allora, questo Buonavista Caffè ci ha attratte perché dall'esterno, come potete vedere, hanno questo carretto che ci ha ricordato molto l'Italia degli anni 50, con questa frutta freschissima, per rappresentare il fatto che fanno delle spremute, degli estratti e delle centrifughe. Sì. La frutta viene cambiata tutti i giorni e quindi anche nelle diverse stagioni noterete diversi tipi di frutta. Poi entrando ci sono questi dispenser. Il primo ha del succo di limone, arancia e zenzero. Il secondo è solo dimostrativo per indicare il fatto che si può chiedere del tè freddo. Non abbiamo potuto riprendere tutto, però una parte del bancone dove venivano esposti dolci che sono sia vegetariani che vegani. Cos'è che distingue la cucina vegana? Il fatto che non ci sia neanche l'uso di latticini e uova. Quindi una torta di mele, come quella che poi vedrete che ho provato io, essendo che ci siano comunque dei latticini, non è vegana. Ma per il resto sì. Noi ci siamo fermati lì a pranzo, abbiamo fatto una piccola degustazione. Allora io sono uscita un po' dai canoni sia del vegetarianesimo che del veganesimo perché mi ha fatto gola provare una crepe. Ve la faccio comunque vedere. E invece Grazia, che cosa ha provato? Io ho provato quelle che qua vengono chiamate tostadas, che sono una fetta come vedete bella spessa di pane integrale e sopra, non vegana, in questo caso vegetariana, c'è una crema di formaggio, del salmone, il cetriolo e dei semini di zucca e di girasole. Esatto. E' veramente buona. Poi una cosa che ci ha specificato una gentile ragazza che lavora lì, che nel momento in cui un vegano chiede una crepe, una piada, viene fatta al momento con ingredienti chiaramente vegani, messe in pentole poi speciali dove non sono state cotte delle cose contenenti sostanze che non riguardano la cucina vegana. Mi è piaciuta tantissimo questa cosa perché vuol dire che c'è davvero rispetto per quella che poi è la base dell'alimentazione vegana. Poi non ci sono solo questi tostados, anche i vari burger, ci sono anche le varie insalate, i vari tipi di verdura, c'è una certa varietà. In altri bar vegani invece sono proprio specializzati con prodotti come i classici tofu e burger vegani e quindi con vari tipi di panini. Il pane che viene usato in questo bar è esclusivamente integrale con dei semi e poi le crepes vengono fatte non con le uova chiaramente ma con delle farine. Ci avevano anche spiegato una miscela che le rende veramente molto gustose. Poi passando ai dolci che cosa hai assaggiato Grazia? Allora io ho assaggiato una torta al cocco farina integrale cocco e goccioloni di cioccolato. Questa è un dolce completamente vegano quindi non sono stati inseriti nessun tipo di grasso animale. La vedete è bella compatta però diciamo è buona come gusto insomma. Invece lei è andata più sul tradizionale con una torta di mele che anche questa è vegetariana non vegana. Vabbè ragazzi io ci provo eh insomma. Però è il massimo che poteva fare. Ma vedrete che vi daremo soddisfazione non saranno le ultime attività vegetariane e vegane di cui vi parleremo. Prima di passare all'altro bar vi lasciamo una chicca. Di fronte praticamente a questo bar c'è forse uno dei ristoranti salutisti più importanti dell'isola. Vi lasciamo la foto con i recapiti. È un ristorante che è specializzato nella cucina per diabetici, celiaci, vegetariani e vegani. Salutista in genere. Salutista in genere. È molto carino dentro. Ve lo trovate tranquillamente su google il suo sito. Apre di sera alle 18 e dovete sapere che le nostre giornate iniziano molto presto e noi di sera non abbiamo tutta questa voglia di girare per locali. Però sicuramente in via eccezionale faremo anche un incontro e proveremo alcuni piatti per voi. Abbiamo preso un po' di informazioni. Si mangia molto bene e quello che ci è piaciuto è che dà l'opportunità anche a persone come ad esempio i diabetici o che è costretta a una dieta per determinate cose di poter godere di una serata fuori e quindi di divertirsi e di poter cenare. Passiamo all'altro bar. Cosa ci puoi dire? Grazie. Allora l'altro bar è appunto si chiama Magnana Esmeor ed è un bar dove si sono specializzati in prodotti sia dolci che salati che fanno loro. Ne siamo impazzite vedendo il menù. Guardate questo menù che è esposto quante quante prelibatezze. Sì poi ovviamente non ci siamo accontentate del menù li abbiamo dovute assaggiare. Diciamo che lì insomma ecco ci siamo date un pochino più alla pazza gioia perché è più nelle nostre corde. Abbiamo assaggiato tre tipi di focaccia. sì. Allora nella mia c'era la granella di pistacchio e dentro sentite bene gorgonzola e mortadella. Niente più? Eh no niente più. Io ho assaggiato la focaccia ligure quella classica olio e sale. Quello ho assaggiato anch'io. E poi ci siamo smezzate una focaccina con cipollina pomodorini e olive. E olive. E olive. Vi devo dire molto saporite tutte e tre. Belle condite. Belle lievitate. Sì. Buonissime. Molto molto buone. Poi giustamente mica potevamo fermarci al salato. Dovevamo anche sacrificarci e assaggiare qualcosina di dolce. Allora diciamo che la mia scelta è ricaduta sul cannolo alla siciliana. Eh sì. Eh sì ragazzi. Vederli lì e vedere che vengono riempiti al momento. Perché ve li fanno vedere solo con la scialtina. Esatto. E poi un piccolo mini craft così insomma che anche lì ve lo riempiono con quello che volete. Questa era una cremina più nutella. Poi visto che ci hanno visto così goderecce. Così prese. Hanno detto ragazze questi dolcettini, questi piccoli bignè perché non li assaggiate? E ce ne hanno portati cinque. Ma su questo lascio le immagini. Solo dei primi tre. Gli altri due portati a casa. Sì. Diciamo così. Gli altri due portati a casa. Abbiamo anche fatto una bella visione del bancone. Che non era pieno perché erano già verso le 11 e avevano già venduto un bel po' di cose. E di questi mini bignè come potete vedere nelle immagini. E di questi mini bignè come potete vedere nelle immagini. Allora questi due bar sono una piccola prova, una piccola dimostrazione del fatto che sull'isola, adesso ci siamo concentrate sulla zona di Coral Eichop ma ne faremo altre, si possono gustare veramente delle cose molto saporite. Vero grazie. È proprio spudorato, grazie. Sì, sì, sì. Ve lo devo dire. Se abbiamo iscritti noi siamo più spronate a continuare in questo tipo di attività. Né cercare nuovi posti da proporvi, né fare video di buona qualità. Ragazzi, iscrivetevi per tenerezza. Cioè, no, a parte gli scherzi. Ci piace tanto fare video, lo vedete, ma è solo una parte di lingua di polvere perché poi lingua di polvere è un'attività molto complessa di social media. In questi giorni abbiamo iniziato una nuova campagna sui social. Abbiamo i capelli un po' dritti, quindi siamo veramente prese, siamo contenti e lavoro ed è molto molto importante fare quello che ci rallegra il cuore. Mi raccomando, iscrivetevi. Sì, mettete un bel like, quindi una bella spolliciata in su, mi raccomando. E parlate di noi ai vostri amici. E diteci se vi è piaciuto il video, cosa vi piace, cosa non vi piace. Granellini, è un canale aperto, la buona educazione è sempre gradita, un buongiorno, un ciao come va, sarebbe carino perché come imposti le cose così poi te le ritrovi nella vita. A volte ci arrivano dei commenti che non capiamo il senso, buttati là, ricordatevi che dietro questi video per quanto belli ci sono delle persone. Non perdiamo la buona educazione, il per favore, il posso chiedere, perché se è lecito chiedere, rispondere è una grande cortesia. Non ci dimentichiamo mai queste cose, non c'è nulla che sia scontato, siamo persone. Di persona, come ci chiedereste qualcosa? Ci fermereste per strada così dicendo, ehi senti, non credo, no? Quindi conserviamo questa educazione che è l'unica cosa che noi speriamo di avere e che vi diamo con tutto il cuore. Noi procediamo la nostra domenica, ci aspetta una settimana fitta di incontri, fitta di cose belle e anche di nuovi luoghi dove mangiare a forte ventura. Vi anticipo che metterò le mani in pasta perché una carissima amica ci ha chiesto la pizza e io ho detto guarda, visto che noi durante la settimana cerchiamo di mangiare sano almeno i pasti che facciamo in casa, perché non ci crederete ma noi mangiamo biologico, mangiamo pasta e pane integreale, mangiamo misurato perché poi sforiamo nel momento in cui facciamo le degustazioni. Le ho detto, io te la faccio con tanto amore ma poi te la porto tutta e magari faccio il video per gli amici granellini. Quindi restate su questi schermi e ci vediamo intanto martedì per le nuove pillole. Grazie infinite, a presto, buona domenica. Ciao! 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 Ciao!